Stavo giocando sul mio mondo vanilla quando è successo questo! Cos'è stato? Ma io ho sentito un'esplosione lontana Dov'è la mia casa? La mia casa? Quello è ciò che resta della mia casa! Cos'è successo? Perché è esploso tutto? Ma io non... No per favore ma questo era il mio mondo vanilla Io raga sono entrato nel mio mondo vanilla E questo coso è esploso tutto Ma ma ma... Questo è il mio mondo esci Ma chi sei? Ma poi cosa... No prima di tutto non esco ma come ti permetti raga? Cioè è come se qualcuno arriva così e dice Ora esci dal mondo Ma chi sei? Ma no! Ma scusa! Oh! Poi cosa sono queste costruzioni in giro? Io non mi ricordavo mica ci fossero Da quando è che sono spawnate? Pure qui tutto è esploso! Tutto è esploso! Assurdo! Che diavolo è sta cosa? Ma che... Allora c'è un signore qui dentro Ma sembra ci sia effettivamente anche un ascensore Questo sembra sia un ascensore Perché c'è del ketchup? Perché cosa... Perché che cose sta roba? Perché c'è del ketchup? Non... Non voglio sapere No no non aprire Perché non aprire? Vabbè allora spacco Se permetti Cos'è successo? Si è aperto questo Io credo che quel rumore abbia fatto aprire questo passaggio Perché prima non c'era Ma raga io sto notando che però 18 diamanti è della pizza Io non vorrei Che la pizza Perché a me ricorda qualcosa Sapete? La pizza Pensateci È palesemente italiana Cioè è di origine italiana Io non vorrei Che questo Simpaticone Inizi con la M E si chiami Mario Non lo vorrei proprio Non è ma... Questo... Allora questo può ricordare Mario ma... Non è lui Non è affatto lì Ma che diavolo... Ok è caduto È caduto Perfetto Sei... Ma dove sono? Scusatemi In tutto ciò Dove caspita sono? Che caspita è? Qua continua Ok perfetto Io credo che qua però Mario rispauni Quindi direi di muoverci Prima che rispauni Perché giuro che rispauna So come funzionano questi mostri Purtroppo E non vorrei che... Oh ok perfetto Ora Non puoi più giocare Lascia questo gioco Cioè cosa vuol dire? Sono... Sono intrappolato qua Sì Sono intrappolato qua A meno che Tecnicamente io non utilizzi L'ascensore Eh stupido Mario Solo che di nuovo lì Vedo E quindi tecnicamente Dovrei risconfiggerlo Certo non è che sia così difficile Quindi Raga Ci avete fatto caso Ad una cosa Io qui Posso fare questa cosa? Eh sì È stato molto bello Mario Però io adesso mi devo Sbrigare Anzi Per sicurezza Per non cadere Faccio così va Perfetto Scendiamo Sono sceso Certo raga Che comunque queste cose Non sono normali Cioè Certo raga Certo raga